Ciao a tutti, io sono Eleonora, io sono Federico, e io sono Emma, e questo è il nostro canale I colori di Emma Allora eravamo qua che stavamo facendo un po' il punto della situazione sui nostri colori incantati, il blu era molto fessi, impaticissimo, ma io prefero, poi c'era il verde, strega verde, mettilo via, mettilo via, poi c'è stato il grigio, il grigio, chi se lo ricorda il grigio, la schiaccia ciamatina, poi c'era il bianco, c'era il bianco, e lo scienziato mazzo lo scienziato mazzo, è stato simpaticissimo anche lo scienziato l'ultimo c'è stato l'azzurro, che era? principe azzurro e luna, biancaneve e insieme a biancaneve, anche questo è stato molto carino ora stavamo un po' facendo delle supposizioni, cosa ci porterà il rosso, cosa ci porterà il giallo, che ne so, il rosso, secondo me? secondo me ci trasforma in un delle fragole metta la fragole invece, che ne so, il giallo, il giallo che ha un colore solare, acceso un limone sì, un limone sì magari un sole e secondo me il marrone, in un gustoso biscotto biscotto o meglio ancora, in cioccolata marrone, è possibile? eh, ma profuma di cioccolata profuma proprio di cioccolata io lo provo no, no io vado a provarlo no, dammila, dammila dammila no, no, no vado freddi federico sì, io la provo, la provo no, 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 no no, no, no vieni qua no, no, no vieni qua vieni qua aiuto è tirata dentro marrone, marrone, marrone no oh no sono rimasta sola e se esce qualcosa di terribile cosa faccio? alto là ma dove sei? ma che cos'è? ma dov'è la mia sciamola? dov'è la strega verde? chi sono? dove siamo? io sono pirata fefè anche il pirata si chiama fefè e stavo per uccidere la strega verde dove siamo? cos'è questo posto? qui si mette molto male cos'è questo posto? tu chi sei? prendiamola in ostaggio e ci dirà tutto sì prendiamola in ostaggio e ci dirà tutto se no ti punteremo giù dal monte sarà difficile convincere questi due a tornare nell'armadio che armadio? io voglio tornare sulla mia nave come faccio? aiuto la facciamo a pezzettini? no io ci voglio fare un bel liquore forse un'idea vi propongo una sfida che idea? che sfida? vi dirò tutto quello che so solo se riuscite a battermi a pirata popò pirata popò? una sfida? mi dirai tutto della strega verde vero? sì ok ci sto io preparo tutto per aggiorarmi ok stiamo alle sue regole ma ti teniamo d'occhio? un barile di rum chissà oh ma lui assomiglia al nostro capitano capitano barba nera sì mi ricorda qualcosa cosa dobbiamo fare? che colore scegliete? io scelgo il verde la strega verde la devo uccidere ok e che colore scegliete? il giallo ok allora io prendo lui cosa dobbiamo fare? prendete le vostre spade e aspettate il vostro turno spade? turno? bisogna utilizzare queste spadine qui dentro senza fare saltare pirata ok è un gioco di abilità non c'è piace quindi dovrò scegliere un buco e non far saltare pirata popò se c'è l'inganno questo? questo scelgo questo niente i pirati sono che serve? hai fatto saltare il pirata popò quindi abbiamo perso si ho vinto per guardare il gioco forse voi due abbattervi uno contro l'altro noi due uno contro l'altro va bene ti spiego i raggi mi ha tenuti buoni così comunque non è male avere questi due riposti dei miei genitori starti ora mi inventerò qualcosa ma se questo video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale se non ancora non lo avete fatto e cliccate la campanella per essere sempre giunali sui nostri video ciao